per l'output di danno che abbiamo si incazzano subito hai preso il mio vizio di girare intorno no volevo vedere se giravi anche tu e se giravi in che verso se non lo stai su quello opposto beh avevo iniziato a girare nel verso opposto perché quello che facevi te è il verso sbagliato non si uscirà mai in quella maniera lì sbagliatissima no non è vero tiro io le robe ok comunque secondo me sbaglia non usare il mantello quello lì forte però non lo so usare cioè lo provo per carità ma tu com'è che lo usi? io ora me lo metto e mi ci mettono al mezzo sa lo provo spacchiamo sto bianco no scusa non l'ho nemmeno vista bene subito lo ti dice anche del mantello no? si lo tiro su oh buono ce l'ho fatta stavolta è già morto metto l'affinity lo tiro giù lo tiro giù ascolta io mi sto ricaricando robe più che altre perché adesso lo addormentiamo si 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 se che sto ricaricando tutto intanto devi fargli danno tiro fuori ok ho messo la capture net lo vuoi catturare? vuoi cominciare forme ho un wyvern anch'io vai ah è pace spero che fosse già carico ti ho colpito do la colpa a te ah ce l'hai per tirarlo fuori eh no ce l'ho se adesso ci va eh giustamente fa questo di attacco il range di merda lo tiro fuori lo tiro fuori devo solo ok comunque user normale 2 ah ok quando è finito 4 lo ho fatto però dai 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 buono il bianco si vai vai equipaggiamento 3 minuti e 35 oh mega GG farlo vedere tutto che hanno 3 pagine si comunque abbiamo abbiamo il plugs 5 con questo ok ok no ma io in realtà c'è il coso che lo metto perchè andandoli nel mezzo non voglio essere stunnato da roba e quindi poi gli faccio c'è una finestra enorme di danno così che bel tempo non dovresti stare minimo attenti onesti quanto ci abbiamo messo 30 40 e meno 40 tondi GG si 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 buono e comunque si può ottimizzare un bot perchè non le ho sbattute insieme non non come si dice cioè il bianco è stato tritato in realtà si non si potrebbe ottimizzare un bot un po' Grazie.